Ciao a tutti sono Sissi, bentornati sul canale per questa nuova recensione, oggi facciamo la 11x19 di The Walking Dead, quindi diciannovesima puntata della undicesima e ultima stagione, manca sempre di meno alla fine di The Walking Dead, siamo già alla puntata numero 19, puntata che si intitola Variante. Prima di iniziare come al solito con la recensione facciamo la propaganda canale, perciò se siete qui e non siete ancora iscritti male e malissimo vi chiedo di iscrivervi qua sotto così mi aiutate a crescere con il canale, lasciatemi poi un like di supporto molto importante e sentiamoci qua sotto nei commenti, io rispondo sempre a tutti quanti e per questo che ho creato il canale per interagire con voi e parlare delle nostre serie tv preferite, in questo caso di The Walking Dead, e quindi fatevi sentire qua sotto nei commenti che la discussione va sempre avanti nei commenti, dunque poi nell'info box qua sotto in descrizione trovate anche il link per il mio secondo canale perché io ho anche un secondo canale dove faccio altri contenuti, ci divertiamo e ci divertiamo anche sul mio secondo canale, perciò se vi va di passare di lì e darmi supporto anche lì trovate il link qua sotto, vi aspetto, mi fa molto piacere. Che altro devo dire? Intanto sta arrivando Raul il disturbatore, mi ha sentito che iniziavo il video e arriva. Che altro volevo dire? Una notizia è stata ufficialmente rinnovata la seconda stagione di Tales, quindi lo spin-off di Tales è stato rinnovato per una seconda stagione, questa è una notizia sicura, dopodiché sono usciti, credo su TikTok forse, credo non da canali ufficiali, quindi è una cosa da prendere un po' con le pinze, questa che sto dicendo, non sono nemmeno io sicura, dovrei informarmi un po' meglio, che, perché poi è una cosa recente di ieri, praticamente sono usciti anche i personaggi dei prossimi episodi di Tales, dunque in questa prima stagione, non so se l'avete seguita, non l'ha seguita quasi nessuno, mi sa che l'ho vista solo io, c'era solo un episodio con un personaggio conosciuto che era l'episodio di Alpha, tutti gli altri erano nuovi personaggi e ogni storia era stand alone, nel senso che non si ricollegavano né con la serie né con tra di loro, insomma c'è stato solo in un episodio, prendo Raul, scusate lo sapete che lui ogni tanto arriva, è vero? È vero che ogni tanto arriva? Dicevo, c'è stato solo poi in un altro episodio che è uscita questa carta PPP che l'abbiamo vista nel frangente della sparizione di It, mentre nella seconda stagione a quanto pare sono tutti episodi con personaggi già noi conosciuti, per esempio è uscita la lista, sono otto puntate con otto personaggi e ogni episodio si concentrerà su un personaggio, c'è Dwayne che è il figlio di Morgan, c'è Andrea, c'è Enid, c'è Carl mi pare, c'è Negan, l'episodio di Negan, però non sono sicura perché non è uscito da canali ufficiali, sono cose prese da, credo da TikTok, quindi non sono sicura di questa cosa, prendetelo con le pinze, più avanti saprò dirvi qualcosa con più certezza, fatto sta che però sicuramente Tails è stata rinnovata per una seconda stagione. Io sono contenta se ci sono questi episodi con gli attori già conosciuti, con i personaggi già conosciuti, perché vuol dire che quelli della AMC hanno guardato le mie recensioni, hanno guardato insomma un po', hanno ascoltato un po' l'opinione di tutti i fan, visto che la prima stagione non è stata un grande successo e stanno recuperando. Comunque saprò dirvi qualcosa di più concreto in futuro, intanto prendetele così con le pinze, queste cose qui che vi ho detto degli episodi con personaggi già conosciuti. Incominciamo con questa puntata, allora la puntata si chiama Variante, si chiama Variante perché ovviamente si parla di questa nuova variante, io non so se parlarne già subito adesso, anzi facciamo così, teniamo l'argomento per la fine e parliamo prima di quello che sta succedendo nel Commonwealth. Allora praticamente che succede? Viene incolpato Eugene praticamente della morte di Sebastian, la Milton, Pamela Milton è sul piede di guerra per la morte del figlio e quindi va da Mercer e dice ascolta portami Eugene, se riesci ad arrestare Eugene e a portarmelo vediamo di fare in modo di aiutare tua sorella in qualche modo, quindi sia Eugene che Max sono due fuggitivi al momento e quindi li stanno cercando e stanno anche portando al comando di polizia tutti quanti quelli del nostro gruppo, chiamiamoli, per interrogarli insomma su dove erano, se li hanno visti, non li hanno visti eccetera. E qui in questo frangente di tutto quello che sta succedendo nel Commonwealth, cioè in generale mi è piaciuto molto questo episodio, forse mi è piaciuto di più per quello che succede nel Commonwealth rispetto che per la storia della variante, che è un discorso che abbiamo già fatto e che faremo più tardi, finito la tranche sul Commonwealth. Quello che mi è piaciuto tanto di questa parte del Commonwealth, quello che mi è piaciuto tanto di questa parte del Commonwealth è la caratterizzazione dei personaggi che stanno prendendo sia Mercer che la Pamela Milton, che sono due personaggi che abbiamo visto, ma forse Mercer l'abbiamo visto un po' di più, mentre la Milton l'abbiamo sicuramente vista di meno negli scorsi episodi, quindi non riuscivamo bene a capire un po' il suo personaggio, il suo carattere, il carattere appunto del personaggio, se è una villain, se non è una villain, quindi si sta delineando di più il suo personaggio. Adesso poi con questa tragedia avvenuta della morte del figlio, gli stanno dando sempre più importanza e io sono molto contenta della cosa, perché mi pare di averlo già detto sia nelle scorse recensioni che volevo vedere di più sulla Milton, perché secondo me era un personaggio che poteva essere interessante, che poteva darci delle sorprese. Che vuoi fare? Vuoi fare il pappagallino? Mettiti giù, dai! E quindi poteva regalarci delle sorprese e quindi sono molto contenta di questa delineazione del suo personaggio e anche del personaggio di Mercer, perché anche qui Mercer secondo me è un personaggio che è molto in fase di evoluzione, perché ha avuto diversi scambi che si vede che lo stanno facendo riflettere, perché lui ovviamente sta cercando di proteggere la sua famiglia, quindi sua sorella, gli è rimasta solo sua sorella e quindi pur di proteggere sua sorella va un po' contro al buon senso, insomma, al buon senso, alla situazione che si sta delineando, quindi va un po' contro tutto ciò per proteggere sua sorella e quindi qui ha vari dialoghi con personaggi che lo fanno, che lo portano poi, anche tramite le loro azioni, che lo portano poi, vuoi scendere, adesso tra 5 minuti vuole risalire, che lo portano poi a, si vede proprio, li si vede dall'espressione facciale a riflettere con questi occhi a palla bellissimi, bellissimo Mercer, è troppo figo. E quindi niente, quindi praticamente parla all'inizio con Rosita, poi parla con Max, gli dice beh ma nostro padre non sarebbe fiero, anzi elogerebbe il comportamento di Eugene, poi anche tutto il discorso con Princess, Princess alla fine lo molla. Allora, io li scippo a tutte e due, cioè Princess e Mercer devono stare insieme, io non credo che sia finita qui, penso ancora al lieto fine tra di loro, perché comunque Mercer si vede, cioè lo vedevo molto provato e si vede che sta per cambiare, nel senso è veramente in fase di evoluzione il suo personaggio, glielo si leggeva in faccia, insomma, molto espressivo l'attore di Mercer. E quindi niente, io non credo che sia la fine di Princess e di Mercer e credo che nei prossimi episodi ci saranno delle sorprese e quindi anche con tutto il discorso che ha fatto Princess, che lei se ne deve andare, della situazione del Commonwealth, ha ritirato fuori ancora tutta la sua storia di famiglia che già in passato aveva detto a Ezekiel, forse l'aveva raccontata e quindi l'ha raccontata un po' più nel dettaglio e quindi deve rimuoversi, insomma, dalla situazione e qui appunto lui continua, con tutti questi dialoghi, continua un po' a capire, a immagazzinare e poi alla fine è stata l'ultima goccia, probabilmente è stato Eugene che si costituisce, si costituisce alla polizia e si prende, insomma, tutte le colpe scaggiorando completamente la sorella e dimostrando con la sua azione, cioè, allora innanzitutto è una, questo è un passo avanti anche per il personaggio di Eugene perché anche qui, anche qui con la storia di Eugene è stato un po' un passo indietro, un passo avanti, sempre, lui è stato sempre un po' un passo indietro, un passo avanti con la sua evoluzione di personaggio, no? e adesso sembrerebbe che per la sua amata abbia tirato fuori i cojones, i cojones, chiamiamoli così e si sia preso appunto le responsabilità, no? abbiamo visto anche l'addio con Rosita, anche questo sarà un addio per sempre? non lo sappiamo, non lo sappiamo, fatto sta che mancano cinque puntate, quattro puntate, quanti episodi sono? 24? 4-5 puntate manca perché, vabbè, io la 20 l'ho già vista, quindi manca per me, mancano quattro puntate ed è inconcepibile la cosa, non ce la faccio al pensiero che manca così poco e quindi niente, quindi da questo, da tutti questi personaggi io mi aspetto delle sorprese nei prossimi episodi diciamo che questa è stata un po' una puntata per questi personaggi di evoluzione quindi si stanno delineando le loro caratteristiche, i loro personaggi e hanno buttato le basi per le prossime e ultime puntate che devono venire bellissimo anche qui nel frangente della caratterizzazione della Milton quando è andato a parlare con Lance Orsby lui quando ha sentito che il figlio era morto, secondo me gli sono venuti tutti i capelli bie e gli è venuto un mancamento, no? è stato bellissimo quando gli ha portato in cella il figlio e il suo uomo col macete gli ha detto sfama mio figlio e l'attimo di tensione con la monetina che praticamente la Milton ha fatto il gioco di Orsby, no? sapete quando lui tirava, lanciava la monetina, eccetera ha fatto il suo gioco, lui anche qui è cagato, è bellissimo quel momento mi è piaciuto davvero molto quindi tutta la parte appunto sul Commonwealth mi è piaciuta molto alla fine si chiude con appunto il rapimento di Rosita praticamente si chiude la puntata con Rosita che è lì che si sta preparando per raggiungere tutti gli altri che devono scappare al cambio della guaria quelli che hanno deciso di andare via perché poi ci sono gente che rimane per esempio come Zikiel che vuole rimanere e quindi lei si sta preparando per andare a raggiungere tutti gli altri ma anzi sembra anche che qualcuno sia nell'appartamento con lei perché lei dice siete tutti pronti? non c'è nessuno e ci sono questi due che se la portano via chi sono questi uomini? dove la porteranno? lo scopriremo nelle prossime puntate io non posso dire niente ho le labbra cucite e quindi niente quindi chiudo così la parte sul Commonwealth e iniziamo a parlare di queste benedette varianti che ce n'è c'è un pochino da dire rifaccio un pochino il discorso un po' che avevo fatto in passato allora io parlo io da qua in poi parlo liberamente perché queste varianti in realtà noi le abbiamo già viste sia nella prima stagione di The Walking Dead sia molto più recentemente nella scena post credit di World Beyond questo discorso l'ho fatto già nella scorsa puntata a questo punto chi non sa dovrebbe sapere perciò io parlo liberamente chi non ha visto World Beyond mi dispiace però non c'è più tempo nel senso se volete staccate qui se non volete degli spoiler oppure continuate a seguire e niente e ne parliamo liberamente insomma io vi ho avvisato e dunque questa variante l'abbiamo vista appunto nella scena post credit dell'ultima puntata di World Beyond che è un po' penso pensiamo e pensiamo noi nel mondo delle recensioni pensiamo che stiano inserendo questa cosa perché la inseriranno poi negli spin off probabilmente nello spin off di Daryl che verrà trasferito in Francia in qualche modo lo scopriremo mancano quattro episodi e non so come faranno a concludere tutto però va bene andiamo avanti andiamo avanti concentriamoci sul presente che cosa succede nel frangente di questa clip post credit di World Beyond praticamente c'è questa dottoressa parlano in francese probabilmente appunto sono in Francia c'è questa dottoressa che è in un capannone tipo abbandonato e ha trovato del materiale video e è del materiale video del dottor Jenner il dottor Jenner ve lo ricordate quello della prima o seconda stagione non mi ricordo di The Walking Dead quello che era dentro nel CDC di Atlanta che iniziava appunto a fare un po' a capire un po' questo virus come si le persone come come si ritrasformavano insomma come si risvegliavano dopo la morte in zombie e quindi ci sono appunto sta l'essa guardando un video del dottor Jenner e arriva uno tipo della resistenza e si parlano si parlano e si dicono se lei era del team di questi medici Primrose mi pare che appunto dovevano essere a non lo so erano andati da qualche parte adesso mi sfugge il nome del paese erano andati da qualche parte per una convention e è successo tutto il casino insomma è successa tutta l'apocalypse e lei non faceva parte di questo team però era rimasta lì insomma mi pare che sia andata così fatto sta che questo la uccide la uccide e questa si risveglia zombie però si risveglia zombie veloce e zombie che va verso che c'è che si ricorda del suo carnefice e va verso come se fosse tipo per vendetta e quindi corre verso la porta sbatte verso la porta come per cercare di aprire la porta e andare verso chi l'ha uccisa ok quindi abbiamo visto questa già questa variante in quel frangente e qui ce l'hanno riproposta ce l'hanno riproposta in un modo un pochino diverso perché che cosa succede sappiamo che i nostri il gruppo di Aaron Lydia Ezekiel e Jerry sono in viaggio con tutte le provviste il loro carretto verso Oceanside ad un certo punto si imbattono un po' tipo in un'orda e in quel momento il carretto poi si devono percorrere una strada non cioè una strada pericolante il carretto si inceppa Jerry si ferisce insomma trovano un posto dove stare alla fine trovano un posto dove passare la notte riprendo Raul trovano un posto dove passare la notte tu sei una variante sei la variante Raulinus eh cosa ti ringhi trovano un posto per passare la notte che sembra tipo un una specie di di villaggio medievale non lo so tant'è che Jerry fa la battuta e ci sono le mura cioè sembra un po' un regno 2.0 io in questo pezzo ho temuto molto per Jerry perché già era ferito e ho detto qui ci lascia le penne Jerry e invece no invece non è morto nemmeno nessuno secondo me ci stava una morte qua dentro di uno di questi del gruppo magari non necessariamente di Jerry magari Elijah non lo so fatto sta che secondo me una morte qua dentro ci stava ma non hanno voluto va bene va bene così moriranno tutti l'ultima puntata che cosa vi devo dire non lo so e fatto sta che qui loro sanno c'è tutta la storia la love story tra Elijah e Lydia ma che non ce ne frega un bel niente però è molto bello quello che dice Aaron dovrebbe farci riflettere un po' tutti sui nostri rapporti che comunque la vita non è certa e dopo ti penti delle cose che non hai fatto questo era il succo fatto sta che sono lì a fare il turno di guardia e hanno controllato più volte il perimetro ci sono le mura è tutto chiuso è tutto sigillato vediamo questo zombie che scavalca il muro ok scavalca il muro e qui che cosa succede questo non solo ha scavalcato il muro ma è anche andato a aprire il cancello a tutti quanti li ha fatti entrare si è arrampicato sul tetto no prima ha tipo ha avuto colluttazione con Lydia si è arrampicato sul tetto ha raccolto una pietra ha cercato di di colpire Jerry con la pietra e ha anche fatto e ha anche avuto un po' di colluttazione con Aaron ora ok io questo discorso l'ho già fatto secondo me è un po' tardi io capisco perché tanti anche i miei colleghi che fanno le recensioni hanno detto ah è un cambiamento ci voleva un po' di come se fosse un po' una ventata di arria fresca se no la storia è trita è ritrita ci voleva il cambiamento e va bene io dico sì ok è un po' tardi perché comunque mancano quattro puntate cinque puntate alla fine io ok che tu mi vuoi preparare per gli spin off eccetera però cioè secondo me ci dovevano pensare un po' prima nel senso che poi l'ho vista come una cosa un po' forzata un po' un'americanata insomma perché questo ho fatto tutto tutto insieme sì ok noi eravamo nella prima stagione di The Walking Dead abbiamo visto in vari frangenti tipo la moglie di oggi sono fissata con la parola frangenti cioè fatevi uno shot tutte le volte che dico frangente o frangenti non so a volte mi parte lo schizzo per una parola il fatto sta che l'avevamo vista appunto nella prima stagione anche con la moglie di Morgan che la moglie di Morgan appunto che girava la la manopola del della della porta oppure la bambina zombie che raccoglie il peluscio oppure non lo so abbiamo visto anche qualcos'altro forse quelli che scendevano dal pulmono salivano non lo so fatto sta che avevamo visto o salivano scendevano le scale vabbè fatto sta che avevamo visto nella prima stagione zombie che facevano un po' queste cose ed erano anche molto abbastanza presenti dopodiché per 10 stagioni 10 anni quindi più o meno non abbiamo visto più niente di questa cosa e qui ti dice adesso ci arriva questo tutto insieme ha scavalcato il la recinzione ha aperto il cancello anche se non ce l'hanno fatto vedere però così è stato perché non ce n'erano altri come lui nel senso è stato lui che ha ha scavalcato la recinzione ha aperto il cancello fatto entrare tutti gli altri è salito sopra il tetto ha preso la pietra e in due in due momenti diversi ha cercato di lottare con con l'avversario ok secondo me è stato un po' too much un po' troppo un po' troppo e un po' troppo americanata insomma io ho un po' paura per questi per questo spin off di Daryl cioè non vorrei che diventi una roba veramente c'è alla boh alla Resident Evil Evil Resident Evil cioè quindi zombie che combattono non lo so io sono un po' fan degli zombie con il vecchio stile lenti cioè tanti ma lenti no invece cioè tipo non è che mi piacciono molto tipo gli zombie alla World War Z cioè quelli veloci non lo so quelli che combattono le trovo americanate pazzesche non lo so e quindi niente quindi questo è il mio pensiero poi avevo detto anche un'altra cosa in passato quando avevamo parlato appunto della variante nel nel contesto di World Beyond se non ho detto frangente ho detto contesto nel contesto di World Beyond perché avevo detto ok io lo posso accettare questa cosa della variante appena uno zombie si è appena trasformata cioè quando una persona si è appena trasformata quindi che è un ricordo lucido cioè un ricordo molto recente ok però di vedere zombie così in avanzato stato di decomposizione che praticamente sono solamente ossa e tutti i marci cioè raccogliere pietre scavalcare muri salire sul tetto fare a botte con l'avversario cioè mi sembra veramente un po' azzardato cioè adesso io non sto qua a dire della decomposizione di come dovrebbero andare le cose perché sono consapevole che è un è un fantasy alla fine cioè sono cose inventate gli zombie non sono reali e e quindi però io cioè cercando di avere un pensiero razionale in tutta questa cosa ci vedrei meglio una cosa del genere come l'ho detta adesso e poi soprattutto mi sarebbe cioè mi è piaciuto molto nel contesto appunto di questa introduzione della variante una cosa che mi è piaciuta tanto è stata quando Aaron ha detto sussurratori ok lì mi è piaciuto mi è piaciuto che loro hanno pensato subito fossero dei sussurratori e ci stava e vi dico anche un'altra cosa secondo me la storia qui della variante potevano inserirla quando c'era il contesto dei sussurratori magari anche in due contesti differenti nel contesto dei sussurratori cioè vi immaginate i sussurratori che gli arriva cioè loro radunavano orde e orde di zombie cioè vi immaginate che dentro c'era uno di questi qui e loro non capivano se era uno di loro se era uno zombie cioè che avrebbe creato il caos oppure appunto nello scontro zombie cioè sussurratori e il nostro gruppo buttarci in mezzo uno zombie variante e e e metterci questa questo elemento di caos secondo me ci stava veramente molto bene in quel frangente magari anche nell'ultima puntata quella appunto dell'ospedale quella dove è morto Beta è ritornata Maggie cioè anche lì la metti nell'ultima puntata va bene ok però basta che cioè il momento era più azzeccato secondo me però va bene adesso noi siamo cioè ormai la serie è finita nel senso sono cose che siamo qui a parlarci noi ho un po' paura per il futuro ecco non vorrei che diventi un'americanata pazzesca visto come ho detto che mi sembrava mi sembra un po' tutto too much e e niente vabbè comunque vedremo che cosa ci capiterà io ho sforato e quindi chiudo qua fatemi sapere voi qua sotto poi ognuno la pensa come vuole se siete contenti io sono qui che sto facendo una critica e basta fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa puntata e che cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo parlato lasciatemi un like di supporto iscrivetevi se non siete ancora iscritti io vi bacio e noi ci vediamo giovedì pomeriggio con la recensione della casa del drago house of the dragon ciao